buongiorno a tutti e bentrovati nella mia cucina oggi voglio fare una ricettina molto semplice anche sto parlando di pomodori confit i pomodori confit sono dei pomodori che generalmente si dicono i piccadilli o il perino o il san marzano dipende dall'utilizzo si possono utilizzare sia per condire la pasta sia per gustare così come antipastino o addirittura per per conservarli e metterli come guarnizione come decorazione nei nostri piatti andiamo subito alla preparazione vi spiego molto velocemente tanto è semplicissimo questi sono 250 grammi di pomodori batterino e gli andiamo a dividere a metà io ho preso una teglietta piccola perché in base alla quantità ho scelto questa e con foderata di carta forno e andiamo a disporre a questo punto io ho fatto un melange ho messo 5 grammi circa scusate 10 grammi di sale fino 10 grammi di zucchero origano a piacere e pepe a questo punto non dobbiamo fare altro che andare a cospargere bene qui ho uno spicchio d'aglio tagliato a lamelle sottili e vado a mettere una lamella per ogni pomodorino intanto io ho pre riscaldato il forno a 150 gradi ora tocco finale dell'olio evo e ora come ho detto vado ad infornare a metà del forno cioè la parte a metà a 150 gradi per circa per circa un paio d'ore dopodiché vedremo il risultato molto bene sono passate due ore e questo è il risultato non so se si vedono molto bene se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e in questi giorni ci saranno nuove ricette seguitemi ciao a tutti e buon pasqua a tutti ciao a tutti ciao a tutti